La Procura di Bari ha concluso le indagini sulle due associazioni per delinquere finalizzate alla corruzione elettorale che avrebbero alterato l'esito delle elezioni amministrative nel comune di Grumo, Appula e della regione Puglia del 20 e 21 settembre 2020 e nel comune di Trigiano del 3 e 4 ottobre 2021. Tra i 18 indagati per i quali la Procura quasi certamente chiederà il rinvio a giudizio vi sono Alessandro Cataldo, detto Sandrino, di 52 anni, fondatore del movimento politico Sud al Centro e sua moglie, l'ex assessore regionale ai trasporti Anita Mauro di Noia, di 49, dimessasi nell'aprile scorso dall'incarico e dal partito dopo l'arresto del marito e di altri indagati. Secondo l'accusa, Cataldo sarebbe stato promotore del sistema che avrebbe procacciato voti a pagamento nelle diverse tornate elettorali. L'ex assessora, soprannominata Lady Preferenze, fu eletta nel Consiglio Comunale di Bari nel 2019 nel movimento politico fondato dal marito con oltre 6.000 voti. L'anno dopo, candidata alle regionali con il Partito Democratico, di preferenze ne ottenne quasi 20.000. A Cataldo e Mauro di Noia è contestato il reato associativo in relazione alle elezioni di Grumo, Appula, per aver promesso, assieme ad altri indagati, 50 euro per ogni voto oppure un posto di lavoro.